Sono davvero lieta oggi di essere qui per la firma di questo protocollo, di questo protocollo di dichiarazione di intenti che è la prima che viene firmata con un Paese europeo ed è pertanto molto importante perché ci consentirà di gestire insieme il processo immigratorio che noi abbiamo nel nostro Paese, tenuto conto che i provenienti dalla costa d'Aborio rappresentano una percentuale abbastanza consistente pari a circa il 10% degli arrivi. Allora, io ringrazio la delegazione, io ringrazio il ministro, io ringrazio la delegazione della Cote d'Ivoire, io sono davvero molto felice di essere qui e poterci a la signatura dell'accordo, del protocollo, è la prima volta che c'è un accordo con un Paese europeo, e quindi io sono felice di poterciare insieme questo processo di migrazione, a étant donné che i migranti che proviano dalla Cote d'Ivoire rappresentano 10% dei migranti che si trovano in nostro paese. Sul fronte della migrazione regolare abbiamo assicurato al ministro Diomandè che lavoreremo per l'integrazione dei cittadini ivoriani che sono qui presenti sul nostro territorio e ritengo anche importante l'attività di formazione professionale che servirà anche a creare posti di lavoro in quel Paese e l'occupazione di giovani con l'inclusione sociale in costa d'Aborio. Allora, in quanto riguarda la migrazione regolare, ho assicurato al ministro che ci saranno per gli migranti della Cote d'Ivoire che si trovano in Italia, ci sono dei programmi di integrazione e io estime che è anche importante il problema della formazione professionale in Cote d'Ivoire. Allora, in quanto riguarda la formazione professionale per facilitare i posti di lavoro in questo paese e l'inclusione sociale dei giovani in Cote d'Ivoire. La Cote d'Ivoire è stata anche inserita tra i nuovi Paesi beneficiari del recente bando che abbiamo predisposto come Ministero dell'Interno per la realizzazione di progetti di cooperazione finanziati appunto con fondi della nostra amministrazione. La Cote d'Ivoire è inserita in un, parmi neve altri Paesi, in un avivio pubblico del Ministro dell'Interno in quanto riguarda la realizzazione di progetti di cooperazione per la formazione dei giovani con il fondi che proviene del Ministro dell'Interno. da cui provengono i flussi migratori con il rallentamento dei processi di rimpatria di coloro che sono irregolari sul nostro territorio nazionale. Cet accord è estremamente importante, quindi una valore molto importante, perché ci permette di rapatrieri di forma rapida e efficace le persone che dovrebbero essere rapatriate, con un intercambio continuo di informazioni tra i nostri Paesi, questo intercambio che mi ha pazientato con gli altri Paesi e che ha ralenti enormemente il processo di rimpatria. Riteniamo anche che siano maturi i tempi per una cooperazione più stretta, anche di Polizia, per quanto riguarda tutti gli aspetti di criminalità, di terrorismo e quindi per rendere efficace quello che è il contrasto di fenomeni di questo genere. Il momento è venuto per fare anche un'operazione più stretta in materia di polizia, quindi di luce contro la criminalità, il terrorismo, e quindi il momento è venuto per fare questo tipo di accord bilaterale. È necessario procedere a uno scambio di informazioni. Su questo ci siamo dati garanzia reciproca, perché soltanto parlando la stessa lingua, soltanto operando con uno stesso fine, siamo sicuri che questo protocollo d'intesa che noi andiamo a firmare, ripeto e ci tengo a dirlo, che il primo che viene firmato in Europa garantirà quelli che sono i risultati per una migliore gestione del fenomeno migratorio. Grazie.